Quali saranno gli inchiostri presenti in l'Orkana? Rispecchieranno un determinato stile di gioco? E che caratteristica contraddistinguerà ognuno di loro? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'Orkana, il TCG più atteso del 2023, ha mostrato settimane fa la sua struttura di gioco, rivelando non solo il regolamento, che tratteremo più nel dettaglio in un nuovo episodio di TCG in meno di 20 minuti, ma anche i vari colori che formeranno le casate, lasciatemi passare il termine, presenti in questo GCC. Da quando ho iniziato a parlare di L'Orkana, qui sul canale, diversi di voi mi hanno chiesto informazioni al riguardo e attraverso una serie di tre video scopriremo in ordine quale prodotto converrà acquistare. Troverete il contenuto che ne ha parlato cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento, i vari colori presenti in questo GCC che tratteremo quest'oggi, ed ultimo, ma non per importanza, le primissime sinergie che sono nate grazie agli spoiler mostrati in questi mesi dagli addetti ai lavori. Come già detto quindi nel video odierno, andremo ad esplorare le varie tonalità di inchiostro che saranno presenti nel vasto mondo di questo prodotto targato Disney, e lo faremo prendendo in considerazione sia l'aspetto descrittivo, comprendendo le caratteristiche di ognuno di esso, e quali saranno i tratti che li caratterizzeranno principalmente rispetto agli altri. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme i sei inchiostri presenti in l'Orcana e cosa dovremo aspettarci una volta che verranno impiegati sui campi di battaglia. Andiamo a dargli un'occhiata. In ordine alfabetico, l'Hember sarà il primo dei sei inchiostri che potrete utilizzare in partita. I personaggi presenti in questa casata saranno pazienti propositivi e dediti allo scopo che vi prefiggerete, essendo in grado di perseguire le vostre cause ed ambizioni con ostinata tenacia. Nella loro comunità essi lavoreranno su quattro fronti, come leader guidando le meccaniche di gioco dell'intero deck, come guaritori prendendosi cura di personaggi feriti, come guardie del corpo per difendere i più deboli o come semplici seguaci per aiutare come meglio potranno i loro compagni nella realizzazione dello scopo strategico del deck. Con solo 19 carte rivelate, la cosa che si potrà intuire sarà il fatto che gli elementi appartenenti a questo inchiostro potranno potenziare le abilità degli alleati presenti sul campo di battaglia, grazie a carte come Hey Hey, curare eventuali danni attraverso l'effetto di Timon e ripristinare altri personaggi con tratto principessa pronti a svolgere il loro lavoro attraverso il questing effettuato da Vaiana, che a mio parere sarà uno dei caratter più forti di questo primo set. Nel video di settimana prossima scopriremo assieme il perché. Non mancherà comunque il depotenziamento rivale, che attraverso l'Horse Kick di Maximus andrà a sottrarre di due unità il valore di forza di un nemico sotto il controllo avversario. Signori, prima di procedere volevo comunicarvi che i prodotti di Lore Kana sono reperibili su Fantasia Store, dove il giorno prima della data di uscita il vostro ordine verrà spedito e in 24-48 ore riceverete il pacco direttamente a casa vostra. In più, inserendo il codice appena apparso in sovrimpressione, potrete usufruire del 5% di sconto alla cassa e se utilizzerete il referral link per gli acquisti, aiuterete anche il canale a livello economico. Vi lascerò tutto in descrizione. Tornando agli inchiostri, Amethyst sarà la patria ultraterrena di stregoni, saggi oggetti animati e altri barlumi che utilizzeranno i loro poteri per raggiungere gli obiettivi che vi sarete prefissati. Meravigliosi ed incredibilmente potenti quando accederanno alle loro abilità, dando sfoggio sul campo di battaglia, delle incredibili capacità che metteranno al servizio dell'illuminer, forniranno quella spinta in più che servirà all'ottenimento della vittoria finale. Attenzione però a non pretendere troppo dal potere oscuro che muoverà questo inchiostro, perché le forze arcane nasconderanno lati tenebrosi dai quali sarà difficile uscirne se non si possiederanno sufficienti energie per poterle destreggiare. 14 carte per questo ink sono state attualmente svelate e tra esse potrete trovare elementi che vi permetteranno di recuperare carte dalla pila degli scarti come Magic Broom che a sua volta potrà essere evocato scontato di un'unità a livello di costo attraverso l'effetto di Mickey Mouse stregone. In più il colore violaceo vi consentirà di controllare i servitori nemici attraverso l'effetto freeze di Elsa e di guardare dalla cima del deck per sistemarvi la pescata o addirittura favorire quest'ultima velocizzando l'esecuzione di avvio della strategia di gioco che il mazzo seguirà. I character appartenenti all'inchiostro Emerald avranno una capacità di adattamento fuori dal normale, flessibili e capaci di assestare la propria forza a seconda della situazione che vi ritroverete ad affrontare non verrete mai colti alla sprovvista se vi affiderete a loro. Impulsivi e veloci nel pensare ad una soluzione, il più delle volte però presa in modo irrazionale e poco saggia, i personaggi della casata verdognola come delle anguille scivoleranno con facilità nel loro tessuto sociale, attingendo ad elementi naturali o artificiali per permettervi di raggiungere a qualsiasi costo i vostri scopi. Solo otto carte mostrate per loro nel mentre sto registrando questo video, il numero più basso attualmente. Una cosa però mi è saltata subito all'occhio, qui c'è voglia di combattere. Infatti carte come lo stregatto e Crudelia Demon riporteranno la seguente dicitura. Quando questo personaggio verrà sfidato e bandito con conseguente effetto personale. E in più ci sarà la parola chiave Reckless, ovvero un personaggio non potrà acquistare ma dovrà attaccare se possibile, che ho visto ad ora solamente riportato sulle carte Emerald per l'appunto. Quindi credo che questo colore sfrutterà pieno, o almeno da quel che si è visto, la dinamica della battaglia a suo favore per controllare le giocate avversarie. Ruby vi permetterà di affidarvi a combattenti provetti che lotteranno al vostro fianco per il raggiungimento del ventesimo punto lore. Tra le loro fila infatti ci saranno guerrieri, esploratori e temerari audaci vedendoli affrontare sfide con forza e volontà senza arretrare di un singolo passo. E la forza di questo inchiostro si vedrà anche attraverso le 10 carte fino ad ora pubblicate, dato che la maggior parte dei character che apparterranno a questa casata avrà un valore elevato sia in termini di forza che di volontà. Vedasi Maleficent che presenterà un 7-5 a costo 9, un Aladdin eroe fuori legge con i suoi 5-5 a costo 7 e Topolino che avrà le stesse statistiche del ladro appena menzionato ma a costo 8, per non tacere di Mulan del Gif Set, Scar, Tigro e molti altri che una volta impiegati in campo faranno sentire la loro presenza che sarà piuttosto difficile da contestare per chi vi giocherà contro. Con i Sapphire avrete al vostro fianco personaggi intelligenti, creativi, artistici, inventori che eccelleranno anche in campi come le invenzioni e le strategie da utilizzare in battaglia. Con loro non resterete mai a secco di qualche sorta di risorsa, dato che grazie alle loro abilità avrete sempre a disposizione un'arma pronta all'uso, un piano ben congeniato da seguire o del sapere da apprendere per riuscire a portarvi a casa l'incontro. Con 15 carte a disposizione al momento, oltre alle solite abilità già viste nei precedenti inchiostri, qui ci sarà un aspetto che risulterà davvero interessante. Avere la possibilità di inserire carte nel calamaio, ovvero dove andranno collocate le risorse che vi serviranno per soddisfare il costo di giocata delle vostre carte, più volte durante il turno, grazie ad elementi come Let It Go, One Jump Ahead e Mickey Mouse versione Detective. Quindi a primo impatto ramperete e per quel che si sa avrete le armi per poter velocizzare l'accumulo di ink nella vostra riserva per impiegare così colossi sul campo di battaglia o character fastidiosi che potranno fornirvi un vantaggio davvero sleale ai danni dell'avversario. Infine arriviamo a Steel. Questo inchiostro vi permetterà di usufruire di personaggi fieri, imponenti, corazzati. Riassunto tutto in una parola, potenti. Le carte provenienti da questa tonalità potranno applicare una grande quantità di forza bruta una volta impiegate sul campo di battaglia, consentendovi così di spaccare ogni difesa rivale, portandovi sempre più vicini alla vittoria finale. 16 saranno le carte fino ad ora disponibili per questo inchiostro e leggendo i vari effetti traspare il volere di conquista dei personaggi appartenenti a questa casata. Vedasi Simba, Capitano Uncino, il Principe Eric e Topolino Moschettiere, che avranno tutti e quattro l'abilità Challenger, che aumenterà il loro potere di forza, o quello di altri personaggi nel caso di Mickey Mouse, quando combatteranno. In più saranno presenti carte che infliggeranno danni diretti come Smash e Fired Cannons, che potranno così distruggere all'occorrenza nemici già feriti o con forza di volontà tale da rientrare in pieno nelle mire di queste due azioni. Ovviamente ancora è presto per avere un quadro più generale delle caratteristiche vere di ogni inchiostro, ma non credo aspetteremo a lungo prima di vedere quanto potenti e gloriosi essi saranno. Come dico sempre, solo il tempo e gli addetti ai lavori potranno darci una risposta prima che settembre finalmente porterà questo TCG fisicamente sui tavoli da gioco. Prima di concludere, in descrizione vi lascerò il link dove potrete trovare la lista di tutti gli elementi fino ad ora rivelati e che verrà aggiornata ogni volta che ci sarà uno spoiler dalla casa madre. Giorno dopo giorno nuove carte si aggiungono alla lista delle già 82 svelate e non siamo neanche alla metà dato che il totale sarà di 204. Ma nonostante ciò già sinergie terribili si prospettano all'orizzonte, che tratteremo più nel dettaglio nel video di settimana prossima, non perdetelo. E voi quale colore o binomio di colori utilizzerete all'interno del vostro deck? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.